Carl, permettetemi di presentarvi Friedrich Engels Non ho mai letto uno scritto tanto rigoroso quanto appassionante Siete il più grande pensatore materialista della nostra epoca Siete un genio Voi conoscete sia la miseria degli operai che i privilegi della borghesia Come fate? Questa è la mano di un lavoratore, vedete? Ora andate bene E se preferissi restare? Attento a chi frepetti Come puoi associare il tuo nome a quello di Marx? I borghesi amano parlare della libertà Ma è della loro libertà che parlano, non della vostra Lo provate sulla vostra pelle ogni giorno Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini È quello che fa la società Voi non siete la società Il lavoro li uccide La libertà, l'uguaglianza, la sicurezza dei cittadini A loro questo non interessa Queste sono astrazioni Sono dei diritti Viva l'anarchia! Vedo che amate la discussione O per meglio dire lo scontro Io direi la dialettica Alle menti che pensano davvero E agli spiriti liberi Questa notte non abbiamo solo bevuto Scriveremo un libro insieme Dovevi consegnare il programma una settimana fa Io ho una famiglia da mantenere Un problema che tu non hai Non c'è felicità senza rivolta E spero di vedere il vecchio mondo crollare presto Noi tre insieme faremo a pezzi il vecchio mondo Forse dovremmo essere un po' più di tre La Lega ha bisogno di uomini Non di cervelloni che dicano loro cosa fare e pensare Sì, ma volete diffondere le vostre idee? Metteteci alla prova Noi siamo invincibili! Fermatevi! Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'info box e commentate sotto al video Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV Per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite Non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV Sono gratuite! Ciao!